Ora è diventata una merda! Sempre con un'azione abbastanza classica, io punto sempre sul classico, sul 12, mentre Angesca sempre con il salato, devo farla pure io! Destinazione? Sucmarket! Andiamo! Il Souq è il mercato locale, è il cuore della città e della vita di ogni paese arabo. Qui ci si perde in mille profumi, colori e suoni tipici di ogni città ed è impossibile non girovagare e fermarsi fino addirittura a perdersi nei suoi infiniti meandri. Grazie a tutti! Qui a Dubai il Souq si trova in periferia, nel quartiere di Al-Faidi che è anche il punto di collegamento con la Old Town di Dubai e per raggiungerla ci si arriva con l'imbarcazione tipica di Dubai, l'Abra che è attraverso il canale del fiume Kor che divide in due la città. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Appena arrivati a Deira con l'Abra Boat, adesso scendiamo e andiamo a vedere altri Souq. E questa è l'Old Town di Dubai, Deira. Grazie a tutti! 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 Berlusconi bello, capi? Berlusconi bello. Oh, ma che ti ha detto il venditore? Berlusconi bello. Scegliamo il colore del velo per la signorina. Quale colore le piace? Un po' tutti. Un po' tutti. Questo blu, Bordeaux pure è bello. No, è Bordeaux. Sì. Apri quello che c'è lui in mano, è bellissimo. Sì, prova. Sì, prova. Di nuovo in albergo, ci siamo dati una rinfrescata, adesso andiamo a fare un'altra attività che dovrebbe essere interessante. Ah, non c'è nessuno? Non c'è qualcun altro dentro, vediamo? Ma un'altra attività a vedere come inanza, non c'è nessuno, non c'è nici che c'è nessuno. Sciuggesti sono la rinfruzione. Un'altra attività da noi, domande, non c'è nessuno. When I find you All I need is here I'll remind you When I find you When I find you When I find you When we start to dance and I'm singing like Girl you know I won't show love Your love was heavenly for somebody like me Coming now follow my lead I may be crazy don't mind me 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti